Nella settimana della giornata contro la violenza sulle donne arriva in provincia il prontuario per un linguaggio che valorizza le differenze. Un documento realizzato da lenti in collaborazione con Creo nell'ambito del progetto formativo Le parole creano la realtà. Si rivolgerà in primis al personale della provincia educando al contrasto degli stereotipi e alla promozione dell'uso di un linguaggio più inclusivo e rispettoso del genere. Dopodiché si aprirà anche alla società civile e alle altre amministrazioni pubbliche interessate. La provincia si è attiva da sempre per la tutela delle pare opportunità e in questo cambiamento culturale sicuramente parte fondamentale il linguaggio che utilizziamo tutti i giorni. Le parole creano la realtà, le parole sono parte integrante della realtà ed è importante come noi la realtà decidiamo di narrarle quindi le parole che scegliamo. Per questo la provincia di Pesururbino ha deciso di partire dal proprio interno stilando un prontuario quindi che sia una guida sulla corretta scelta delle parole che utilizziamo partendo proprio dagli atti amministrativi. Il documento include l'introduzione della sociolinguista Vera Gheno che terrà una lezione magistrale sul tema le parole creano la realtà martedì 28 novembre dalle 15 nella sala Pierangeli della provincia. Questo prontuario sicuramente ci comincerà a far interrogare sempre di più su quelle che sono degli aspetti che certe volte si reputano superficiali o scontati ma perché assessore o assessora che differenza fa. Ecco io invito le persone a leggere il prontuario a cominciare a entrare in quella diciamo mentalità che ci possa portare a capire che gli uomini e le donne non sono uguali però hanno diritto ad avere una pari opportunità di trattamento perché se questo non avviene molte volte si poi si arriva a quella che sono gli episodi di violenza che vediamo quotidianamente che purtroppo vengono maggiormente conosciuti quando si parla di femminicidio ma che è una violenza che invece molte donne subiscono giornalmente e questo in modo particolare nei luoghi di lavoro ed io voglio proprio mettere l'accento e l'attenzione il focus sulla violenza nei luoghi di lavoro perché troppe volte troppe poche volte se ne parla invece è il momento di poterne parlare è il momento di vedere quello che succede di far capire che cos'è una discriminazione di far capire che cos'è il mobbing e in questa maniera qua io penso che si fa un lavoro generale per tutta la società perché vediamo che la nostra società così com'è non può più reggere il problema della violenza sulle donne